Il Trofeo Marche Terminata la fase a gironi iniziata il 29 maggio, delle 32 squadre iscritte e le 16 che hanno superato il turno si sono affrontate per gli ottavi di finale, disputati da venerdì 16 giugno sul terreno di gioco del Torino Serie a Collevario di Macerata. Il Tavellone metteva di fronte per la prima serata la maceratese che ha superato con un netto 5-0 la formazione del Fermano Archetti, mentre molto incerta e combattuta si è rivelata la seconda sfida con il Villamusone che ha superato la Sangiustese per 4-3. Sabato 17 la Biagio Nazaro ha sconfitto 5-2 la FC Fermo e il Corridonia 3-1 il Fabriano Cerreto. Nella terza giornata a superare il turno sono state Nuova Folgore 2-0 al Settempera e Castelfiardo che ha piegato ai rigori l'Invictus. Ultima giornata degli ottavi lunedì 19 con la giovane Ancona che ha battuto 4-1 lo United Civitanova, mentre l'Academy Civitanovese in un'emozionante sfida col Valdichianti Ponte si è imposta per 3-2. Fissati per venerdì 23 e sabato 24 i quarti che vedranno affrontarsi prima Maceratese, Villamusone, poi Biagio Nazaro, Corridonia e il giorno seguente Nuova Folgore, Castelfiardo e Giovane Ancona, Academy Civitanova. Francesco Vallesi responsabile organizzativo del Trofeo Marche, terminata la fase a Gironi si entra negli ottavi di finale che si giocheranno tutti qui al Tonino Seri di Collevario, come è andata fino a questo momento? Devo dire un buon livello tecnico, agonistico, risultati non scontati, anche se alla fine diciamo che hanno passato il turno quasi tutte le prime classificate nei Cironi, però ho visto veramente partite combattute, appunto a sottolineare che il livello di anno in anno si alza sempre di più, gare combattute, non ci sono stati grossi risultati eclatanti, quindi questo fa per sperare che da qui in avanti vedremo delle belle partite. Durante la fase a Gironi le squadre si sono dovute organizzare da soli, si sono riscontrate delle difficoltà, è andato tutto liscio? No, no, sì, la fase a Gironi solitamente la facciamo organizzare alle squadre, diciamo per problemi logistici, perché organizzare tutto un torneo con 32 squadre su un unico campo diventa anche difficoltoso, impegnativo, ma anche per lasciare libero spazio all'organizzazione delle famiglie, delle società, in modo che possono scegliere l'orario, i giorni migliori, più comodi per giocare. Però questa formula di andare a giocare anche a fare trasferte lontane riscuote sempre successo, perché comunque cerchiamo di non far scontrare sempre le solite che durante l'anno giocano nei rispettivi campionati. Un programma che dopo gli ottavi ovviamente vedrà quarti, semifinali e poi la finalissima il 31. Sì, adesso archiviato quest'ottavia di finale, scenderanno in campo le squadre venerdì e sabato, con i quarti di finale le gare in programma saranno Maceratese-Villa Musone, Biagio Nazaro-Corridonia FC, Nuova Folgore-Ancona contro Castelfidardo e per chiudere Academy Civita-Novese contro la Giovane Ancona. Poi le semifinali seguiranno martedì 27 e le finalissime venerdì 30 giugno. Gaetano Calvaresi, oggi allenatore dell'Academy Civita-Novese, che però ha giocato questo torneo proprio nella prima edizione vincendolo. Vincendolo, come ti dicevo, a Telecamere Spende è un'emozione particolare, perché comunque quando entri nel campo, anche se eri nel campo di piedi ripa, attraversi con i ricordi da quando eri ragazzino, avevi un sogno da realizzare, che fortunatamente ho realizzato. Mi trovo qui e mi rendo conto che sono passati 40 anni ed è bello stare in una competizione così importante a livello marchigiano. Una competizione che raccoglie sempre più squadre, che mette di fronte squadre che raramente si possono incontrare, vista la divisione in provincia e spesso per questa fascia d'età. La bellezza dei tornei è mettere a dispetto dei ragazzi con squadre che non conoscono e avere subito a livello motivo il riscontro. Questo è sinonimo di crescita, è sinonimo di abitudine, ha diversità, perché quando giochi lo stesso girone per anni, dagli esordienti agli allievi, il girone macerotese è sempre quello delle squadre. Poi il prossimo avversario, penso che è il Giovanni Ancona, se non ricordo male, è bello perché comunque loro si mettono al prospetto di una realtà che non conoscono e quindi dobbiamo trovare le motivazioni nel minor tempo possibile, che i ragazzi vivono di certezze. Quando arrivano al campo e trovano ragazzi che non conoscono, devono fondare le loro certezze sulle loro capacità, che è quello che noi cerchiamo. Un torneo che oltre a essere giocato con squadre diverse, è anche giocato in notturna, anche questo poco frequente, di fronte tra l'altro a una cornice di pubblico, spesso molto folta. Io faccio i complimenti all'organizzazione, perché comunque è un torneo organizzato bene. La sera alle nove dà emozioni particolari, quando facevo il calciatore e giocare la sera era molto più gratificante che giocare di pomeriggio. Ho visto che ci sono tantissime persone che seguono con interesse questi giovani calciatori, a me fa piacere e spero di continuare a farli divertire e avere sempre persone che vengono al campo solido e esclusivamente per applaudire e non per fare polemiche. Il Trofeo Marche coinvolge sempre più società, anche quest'anno una grande organizzazione, una bella esperienza per i ragazzi. Assolutamente, il Trofeo Marche già da anni conosciamo, l'organizzazione è a puntino, società con settori giovanili ottime di tutta la regione, una crescita anche professionale, se mi fate passare il termine per i ragazzi, un'esperienza a 360 gradi. Siamo felici e contenti di averne fatto parte. Un incontro non solo con squadre con cui si gioca più di frequente, ma anche con squadre che magari sono più lontane. Anche questo è un modo per i ragazzi per avere un coinvolgimento maggiore e anche un interscambio con persone sempre diverse. Assolutamente, per organizzazioni regionali siamo costretti che capita di giocare spesso con le solite squadre della provincia, invece qua ti dà l'opportunità di andare a incontrare realtà diverse che non incontriamo magari anche nel giro di due o tre anni, due o tre stagioni. Sì, mette molta curiosità anche a noi, non soltanto ai ragazzi. Un'ottima cosa, un motivo in più per farne parte. Anche una bella cornice di pubblico, abbiamo visto anche questa sera, anche un'emozione per i ragazzi giocare di fronte a tante persone. Molte persone, il tempo finalmente estivo e soprattutto anche gare serali che i ragazzi vivono queste esperienze pochissime volte. Tutti contenti, tutti felici, i ragazzi, i genitori, il pubblico, noi. Bene così, bene così.